Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori, e benvenuti in questo nuovissimo video con l'altra richiesta di Christian Mattia 2004, e di Fabio Lacara. Prima di tutto, quello di Fabio Lacara. La sigla di Taio, di Tg1 del 1957, del 1960 e del 1968-1970, di Rai Regione del 1979 e di Sport Mediaset del 2012 e del 2018 sono bellissimi. E infine, quello di Christian Mattia 2004. La sigla di Meteo 1 del 1957, del 1970, del 1977, del 1980, del 1982, del 1984, del 1986, del 1987, del 1989, del 1990, del 1991, del 2003, del 2010 e del 2016, di Meteo 2 del 1977, del 1979, del 1981, del 1982, del 1986, del 1987, del 1988, del 1989, del 1990, del 1991, del 1992, del 1992, del 2002, del 2003, del 2010 e del 2016, di Meteo 3 del 1987, del 1988, del 1990, del 1992, del 1998, del 1999, del 2000, del 2003, del 2010 e del 2016, del Meteo 3 del 2004, del 2011, del 2011, del 2015, del 2016 e del 2017, del Meteo di Tg1 del 1987, del 1988, del 1991, del 1995, del 1997, del 1999, del 2004 e del 2016 e di Rai Meteo. sono davvero bellissimi. Li adoriamo. E con il video è tutto. Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori e alla prossima.